Il giorno dopo la battaglia coi ragni, Bilbo e i nani fecero un ultimo sforzo disperato per trovare una via d'uscita prima di morire di fame e di sete. Si alzarono e avanzarono barcollando seguendo la direzione in cui, secondo almeno otto di loro, doveva trovarsi il sentiero, ma non riuscirono a sapere se la loro decisione era stata giusta o no. Infatti quella specie di giorno che c'era nella foresta stava ancora una volta sbiadendo nelle tenebre della notte, quando improvvisamente tutti intorno a loro si accesero le luci di molte torce, come centinaia di stelle rosse, ed ecco che guardinghi avanzarono allo scoperto gli elfi silvani, armati di archi e frecce, e intimarono ai nani di fermarsi. Non c'era neanche da pensare a dar battaglia, anche se i nani non fossero stati in uno stato tale da essere addirittura felici di venire catturati, i loro piccoli coltelli, le sole armi che avessero, sarebbero stati perfettamente inutili contro le frecce degli elfi che potevano colpire un uccello al buio. Così non fecero altro che sedersi rigidi come mummie da aspettare, tutti tranne Bilbo che si mise l'anello e scivolò via lestamente da una parte. Per questo quando gli elfi legarono i nani in una lunga fila uno dietro l'altro e li contarono, non trovarono né contarono lo Hobbit. E nemmeno lo udirono o si accorsero di lui mentre trotterellava proprio dietro di loro alla luce delle torce, quando portarono via i prigionieri attraverso la foresta. Ogni nano aveva una benda sugli occhi, ma questo non faceva molta differenza perché neanche Bilbo che dei propri occhi poteva far uso riusciva a vedere dove stessero andando e comunque né lui né gli altri sapevano da dove erano partiti. Bilbo dovette mettercela tutta per tenere dietro alle torce, poiché gli elfi facevano camminare i nani quanto più velocemente potevano, esausti e malconci com'erano. Il re aveva dato ordine di sbrigarsi. Improvvisamente le torce si spensero e l'Hobbit abbia appena il tempo di raggiungerli prima che cominciassero a passare il ponte. Si trattava del ponte che dopo aver attraversato il fiume conduceva ai portali del re. Al di sotto l'acqua scorreva scura, veloce e violenta e all'estremità opposta c'erano dei portoni davanti all'imboccatura di una grossa caverna che si apriva nel fianco di un erto pendio coperto di alberi. I grandi faggi scendevano giù fino a immergere le radici nell'acqua. Passato il ponte gli elfi tolsero la benda ai prigionieri, ma Bilbo indugiò esitante alle loro spalle. L'imboccatura della caverna non gli piaceva per niente e decise di non abbandonare i suoi amici solo all'ultimo momento, sgattaiolando alle calcagne degli ultimi elfi appena in tempo prima che i grandi portali del re si chiudessero dietro di loro con un secco clangore. All'interno i cunicoli erano illuminati dalla luce rossa delle torce e le guardie elfi che cantavano mentre avanzavano, marciando in quei tunnel che giravano, si incrociavano e deccheggiavano. Non erano come quelli delle città degli orchi, erano più piccoli, non si inoltravano troppo sottoterra ed erano ben areati. In una grande sala dai pilastri scolpiti nella viva roccia, il re degli elfi sedeva su un trono di legno intagliato. Sulla testa aveva una corona di bacche e di foglie rosse, poiché l'autunno era di nuovo alle porte. In primavera portava una corona di fiori di bosco. In mano aveva uno scettro di quercia intagliata. I prigionieri furono portati dinnanzi a lui, e benché egli li guardasse con occhi severi, disse ai suoi uomini di slegarli, visto che erano laceri ed esausti. Inoltre qui non c'è bisogno di corde, disse. Non c'è modo di fuggire attraverso le mie porte magiche, una volta che si è stati portati dentro. A lungo e minuziosamente egli interrogò i nani su quello che avevano fatto e dove erano diretti e da dove provenivano, ma riuscì a cavarne fuori solo poco più di quanto aveva già saputo da Thorin. Erano scontrosi, furibondi e non facevano neanche finta di essere educati. Ma che cosa abbiamo fatto, re? Disse Balin, che adesso era il più anziano. È forse un crimine perdersi nella foresta, avere fame e sete, essere intrappolati dai ragni. I ragni sono dunque i vostri animali domestici o i vostri cari amici che ucciderli vi fa infuriare? Fu proprio questa domanda invece che fece infuriare più che mai il re, ed egli rispose. È un crimine vagabondare per il mio reame senza permesso. Dimentichi forse che eravate nel mio regno e che vi servivate della strada fatta dal mio popolo? Non avete forse cercato per ben tre volte di attaccare e disturbare il mio popolo nella foresta? E non avete forse eccitato i ragni col vostro chiasso e il vostro clamore? Dopo tutti i fastidi che avete dato, ho bene il diritto di sapere perché siete venuti qui e se non me lo volete dire adesso, vi terrò in prigione finché non avrete imparato un po' di buon educazione e di buon senso. Così ordinò che ogni nano fosse messo in cella da solo, che gli fosse dato da bere e da mangiare, ma che non gli fosse permesso di oltrepassare la porta della sua piccola prigione, finché almeno uno di loro non si fosse mostrato disposto a dirgli tutto quello che voleva sapere. Non disse però che anche Thorin era suo prigioniero, fu Bilbo a scoprirlo. Povero signor Baggins. Lungo e logorante fu il tempo che visse in quel posto, sempre solo, sempre nascosto, senza mai ardire di togliersi l'anello, a malapena osando dormire perfino, rannicchiato negli angoli più scuri e più remoti che potesse trovare. Tanto per fare qualcosa si mise a girovagare per il palazzo del re degli elfi. Porte magiche chiudevano gli ingressi, ma ogni tanto, se era svelto, riusciva ad oltrepassarle. Gruppi di elfi silvani, talvolta insieme col re, andavano di quando in quando a cavalcare o a caccia o a fare qualche altra cosa nei boschi e nelle terre a oriente. Allora, se Bilbo era molto lesto, poteva scivolare fuori proprio dietro di loro, sebbene fosse pericoloso farlo. Più di una volta rimase quasi incastrato in mezzo alle porte, quando queste si chiudevano di botto dopo aver fatto passare l'ultimo elfo. E tuttavia non osava camminare in mezzo a loro a causa della propria ombra, per quanto esile e vacillante questa fosse alla luce delle torce, o per paura che lo urtassero e lo scoprissero. E quando poi usciva, al che del resto non accadeva molto spesso, non gli riusciva di combinar niente. Non voleva abbandonare i nani, e dunque non avrebbe saputo dove diamine andare senza di loro. Non poteva tenere dietro agli elfi che andavano a caccia per tutto il tempo che stavano fuori, quindi non scoprì mai le strade che portavano fuori del bosco. Così non poteva far altro che errare infelicemente nella foresta, terrorizzato dall'idea di perdersi, finché non gli si offriva la possibilità di tornare. Inoltre all'esterno aveva sempre fame perché non era un cacciatore, mentre all'interno della caverna poteva in un modo o nell'altro trovare di che vivere, rubando il cibo dalla dispensa o dalla tavola quando non c'era nessuno vicino. Sono come uno scassinatore che è entrato in una casa e non può più andarsene, ed è quindi costretto a scassinare miseramente la stessa casa un giorno dopo l'altro, e gli pensava. Questa è la parte più triste e squallida di tutta questa maledetta, estenuante e scomodissima storia. Vorrei proprio essere di nuovo nella mia caverna accanto al mio bel fuoco caldo, con la lampada che splende. Spesso desiderava pure di poter inviare una richiesta d'aiuto allo stregone, ma ovviamente questo era del tutto impossibile, e presto si rese conto che se c'era qualcosa da fare bisognava che fosse il signor Baggins a farlo, da solo e senza l'aiuto di nessuno. Finalmente, dopo una settimana o due di questa vita strisciante, passata a osservare e a seguire le guardie, e ad approfittare di tutte le occasioni che gli si presentavano, riuscì a scoprire dove era tenuto ogni nano. Trovò tutte e dodici le loro celle in diversi punti del palazzo, e dopo un po' aveva imparato molto bene a destreggiarsi nei vari cunicoli. Quale non fu la sua sorpresa un giorno, nell'udire per caso da alcune guardie che stavano parlando tra loro che c'era un altro nano in prigione, in un posto particolarmente scuro e profondo. Naturalmente indovinò subito che si trattava di Thorin, e dopo un po' ebbe modo di appurare che aveva indovinato giusto. Alla fine, dopo molte difficoltà, riuscì a trovare il posto quando non c'era nessuno in giro e a parlare col capo dei nani. Thorin era troppo infelice per essere ancora furioso per le proprie disgrazie, e si era addirittura quasi deciso a dire tutto al re riguardo al tesoro e alla sua spedizione, il che dimostra quanto fosse depresso, quando udì la vocina di Bilbo attraverso il buco della serratura. Quasi non credeva alle sue orecchie, ma non ci mise molto a capire che non poteva essersi sbagliato, e avvicinatosi alla porta ebbe una lunga conversazione a voce bassissima con lo Hobbit dall'altra parte. Fu così che Bilbo pote portare in gran segreto un messaggio di Thorin a ciascuno dei nani imprigionati, dicendo loro che anche Thorin, il loro capo, stava in prigione lì a due passi, e che nessuno doveva rivelare al re la loro missione, non ancora, non prima che Thorin ne desse l'autorizzazione. Infatti Thorin aveva ripreso animo, sentendo come lo Hobbit aveva salvato i suoi compagni dai ragni, ed era determinato una volta di più a non pagare il proprio riscatto promettendo al re una parte del tesoro, almeno finché non fosse svanita ogni speranza di fuggire in qualche altro modo, cioè finché, per dirla chiaramente, non si dimostrasse che il notevole signore invisibile Baggins, di cui cominciava ad avere un'opinione altissima, era veramente incapace di escogitare qualcosa di molto astuto. Quando ebbero udito il messaggio, gli altri nani si dissero perfettamente d'accordo con lui. Tutti quanti pensavano che la propria parte del tesoro, che essi consideravano di loro esclusiva proprietà, nonostante la situazione in cui si trovavano e il drago tuttora imbattuto, avrebbe seriamente sofferto se gli elfi silvani ne avessero reclamato una percentuale, e avevano tutti piena fiducia in Bilbo. Proprio come aveva predetto Gandalf, vedete. Forse anzi questa era stata una delle ragioni per cui se n'era andato e li aveva lasciati. Bilbo comunque non era così ottimista come loro. Non gli piaceva affatto di essere considerato il sostegno di tutti e di ciascuno e avrebbe voluto avere lo stregone vicino a sé, ma era un desiderio irrealizzabile, probabilmente fra loro c'era tutta la tenebrosa estensione di Boscoatro. Egli se ne stava perciò seduto a pensare, pensare, fino a farsi scoppiare la testa, ma di idee brillanti non gliene veniva nessuna. Un anello invisibile era una gran bella cosa, certo, ma non serviva a molto per quattordici persone. Eppure, come avrete indovinato, alla fine egli riuscì a salvare i suoi amici ed ecco come andò. Un giorno, ficannasando e girellando qua e là, Bilbo scoprì una cosa molto interessante. I grandi portali non costituivano l'unico ingresso alla caverna. Sotto una parte dei sotterranei del palazzo scorreva un fiume che andava a gettarsi nel fiume Selva un po' più oeste, oltre l'erto pendio in cui si apriva l'imboccatura principale della caverna. Dove questo corso d'acqua sotterraneo veniva alla luce sul fianco della collina, c'era una chiusa. Il tetto di roccia si inclinava fin quasi a sfiorare la superficie del rivo e da esso si poteva calare giù una sara cinesca fino a toccare il letto del fiume per impedire a chiunque di entrare o uscire per quella via. Ma la sara cinesca era spesso aperta perché vicino a questa chiusa c'era un traffico notevole in entrambe le direzioni. Se qualcuno fosse entrato da quella parte si sarebbe trovato in uno scuro tunnel naturale che portava giù giù nel cuore della collina e nel punto in cui passava sotto le caverne degli elfi nel soffitto era stato aperto un largo foro che veniva coperto da una grossa botola di quercia. Questa si apriva all'insù nelle cantine del re dove c'erano barili, barili e barili a non finire. Infatti gli elfi silvani e specialmente il loro re amavano moltissimo il vino anche se da quelle parti non cresceva la vite. Il vino e le altre merci li compravano molto lontano dai loro consanguinei del sud o dalle vigne degli uomini in terre remote. Nascosto dietro uno dei barili più larghi Bilbo scoprì la botola il suo uso e spiando attorno ascoltando quello che dicevano i servi del re apprese che il vino e le altre merci venivano trasportati risalendo i fiumi o per via terra fino a lago lungo. Pareva che una città degli uomini vi prosperasse ancora costruita su palafitte all'interno del lago per meglio difendersi dai nemici di ogni tipo ma specialmente dal drago della montagna. Da ponte lago lungo i barili venivano fatti risalire per il fiume selva. Spesso venivano semplicemente legati insieme a formare degli zatteroni che venivano poi spinti contro corrente con pertiche o con remi. Altre volte venivano invece caricati su barche piatte. Quando i barili erano vuoti gli elfi li buttavano attraverso la botola, aprivano la chiusa e i barili galleggiavano ballonzolando sull'acqua e la corrente li trascinava fino al punto del fiume dove la riva formava una specie di promontorio vicino all'estremo confine orientale di Bosco Atro. Lì venivano raccolti, legati insieme e spinti di nuovo verso ponte lago lungo, vicinissimo al punto dove il fiume selva si gettava nel lago. Per un po' Bilbo rimase seduto a riflettere su questa chiusa e a chiedersi se non si potesse usarla per far fuggire i suoi amici e alla fine cominciò a concepire un piano disperato. I prigionieri avevano ricevuto il pasto serale e le guardie si erano allontanate marciando giù per i corridoi portandosi via le torce e lasciando tutto al buio. Poi Bilbo udì il maggiordomo del re che dava la buona notte al capo delle guardie. Prima però egli disse vieni con me ad assaggiare il vino nuovo che è appena arrivato, stanotte avrò il mio bel da fare a sbarazzare le cantine di tutti i barili vuoti, perciò facciamoci prima una bevuta per alleviare la fatica. Benissimo, rise il capo delle guardie, lo assaggerò con te e vedrò se va bene per la tavola del re. C'è una festa stasera e non sarebbe saggio mandare su della robetta da poco. Quando Bilbo udì questo si sentì tutto rimescolare, perché vide che la fortuna era dalla sua e la possibilità di tentare il suo piano disperato gli si offriva all'istante. Seguì due elfi finché non entrarono in una celletta e si sedettero a una tavola dove erano posati due grossi fiaschi. Presto cominciarono a bere e a ridere allegramente. Una fortuna straordinaria sembrava assistere Bilbo. Infatti doveva essere un vino ben forte per ubriacare un elfo silvano, ma questo vino pregiato, a quanto pareva, proveniva dall'inebriante riserva dei grandi giardini di Dor Wynion, destinato unicamente ai banchetti del re e non ai suoi soldati o ai suoi servi. E lo si doveva bere in coppe più piccole, non nei larghi boccali del maggiordomo. Non ci volle molto perché al capoguardia cominciasse a ciondolare la testa, che poi egli appoggiò sulla tavola cadendo in un sonno profondo. Il maggiordomo continuò a ciarlare e a ridere da solo per un po', come se non si fosse accorto di niente, ma presto anche la sua testa prese a ciondolare e si addormentò come un ghiro russando accanto al suo amico. Allora l'hobbit scivolò nella stanza. Un istante dopo il capoguardia non aveva più le chiavi, mentre Bilbo trottava via alla massima velocità attraverso i passaggi che portavano alle celle. Il grosso mazzo gli sembrava molto pesante da reggere e gli venne spesso il cuore in gola nonostante l'anello perché non poteva impedire alle chiavi di sbattere ogni tanto con un forte tintinnio che lo faceva tremare tutto. Per prima cosa aprì la porta di Balin, badando bene a richiuderla appena il nano fu uscito. Balin era al colmo della sorpresa come potete ben immaginare, eppure essendo felicissimo di uscire dalla sua tediosa cameretta di pietra, voleva fermarsi a fare domande per sapere cosa Bilbo avesse intenzione di fare e così via e così via. Non c'è tempo, disse l'Hobbit, seguimi e basta. Dobbiamo rimanere tutti insieme senza correre il rischio di venire separati. Dobbiamo fuggire tutti o nessuno e questa è la nostra ultima possibilità. Se siamo scoperti solo il cielo sa dove vi mettere berrei incatenati mani e piedi per giunta, mi immagino. Non discutere, fidati di me. E così andò di porta in porta finché i suoi seguaci non diventarono dodici, nessuno dei quali particolarmente agile, un po' per il buio e un po' per la lunga prigionia. A Bilbo balzava il cuore in petto ogni volta che uno di loro ne ortava un altro, borbottava o bisbigliava al buio. Accidenti a tutto questo chiasso nanesco, disse tra sé e sé. Ma tutto andò bene, non incontrarono nessuna guardia. Il fatto è che quella notte c'era una grande festa autunnale nei boschi e nelle sale superiori. Quasi tutto il popolo del re si stava dando ai festeggiamenti. Alla fine, dopo essere andati avanti a lungo alla cieca, arrivarono alla segreta di Thorin, che si trovavano i sotterranei più profondi e per fortuna non lontana dalle cantine. Parola d'onore, disse Thorin, quando Bilbo gli sussurrò di uscire e di unirsi ai suoi amici. Gandalf ha detto la verità, come al solito. Sembra proprio che tu sia uno scassinatore di tre cotte, quando è il momento. E più che certo che saremo per sempre tuoi debitori, qualsiasi cosa debba succedere. Ma ora che si fa? Bilbo vide che era venuto il momento di esporre la propria idea, come meglio poteva, ma non era proprio sicuro che i nani l'avrebbero gradita. E i suoi timori si rivelarono pienamente giustificati. Infatti non la gradirono per niente, anzi, si misero a brontolare ad alta voce, nonostante il pericolo che li minacciava. «Ci ridurremo come salsicce, a forza di urti e ammaccature, poi annegheremo di sicuro!» si lagnarono. «Credevamo che ti fosse venuta un'idea sensata quando ti sei impadronito delle chiavi. Questa è una pazzia!» «Benissimo!» disse Bilbo, molto abbattuto e anche abbastanza seccato. «Tornatevene alle vostre belle celle, così vi ci richiuderò dentro e potrete starci comodamente seduti a escogitare un piano migliore. Non credo però che riuscirò a impadronirmi delle chiavi una seconda volta, anche se mi sentissi propenso a provarci!» Questo fu troppo per loro e si calmarono. Alla fine naturalmente dovettero fare esattamente come diceva Bilbo, perché era chiaramente impossibile cercare di non smarrirsi nelle sale superiori, oppure aprirsi una via d'uscita attraverso porte che si chiudevano per magia. Ed era stupido starsene lì a lagnarsi in quei cunicoli per essere poi catturati un'altra volta. Così, seguendo lo Hobbit, strisciarono fin nelle cantine più basse. Passarono davanti a una porta attraverso la quale poterono vedere il capoguardia e il maggiordomo tuttora beatamente intenti a russare con un bel sorriso dipinto sul volto. Il vino di Dorwinion fa dormire e sognare cose belle. Il giorno dopo ci sarebbe stata un'espressione diversa sul volto del capoguardia, anche se Bilbo, con gran buon cuore, prima di andare avanti entrò furtivamente e gli rimise le chiavi alla cintura. «Questo gli risparmierà una parte dei guai che lo aspettano», disse tra sé e sé il signor Baggins. «In fondo era un buon diavolo e non si comportava troppo male coi prigionieri. E poi li metterà tutti in imbarazzo. Penseranno che abbiamo dei poteri magici eccezionali per poter passare attraverso tutte queste porte chiuse e poi sparire. Sparire. Bisogna che ci diamo da fare in gran fretta se vogliamo riuscirci». A Balin fu ordinato di sorvegliare la guardia e il maggiordomo e di dare l'allarme se si muovevano. Gli altri entrarono nella cantina attigua, quella con la botola. Non c'era tempo da perdere. Trano molto, come Bilbo ben sapeva, qualche elfo avrebbe avuto l'ordine di scendere per aiutare il maggiordomo a gettare i barili vuoti nel fiume attraverso la botola. Effettivamente i barili erano già allineati sul pavimento in attesa di venire spinti fuori. Alcuni di essi erano barili di vino e questi non servivano a molto, perché non si potevano scoperchiare facilmente senza far rumore, né si poteva poi richiuderli. Ma in mezzo ce n'erano vari altri che erano stati usati per portare al palazzo del re altra roba, burro, mele e via dicendo. Presto ne trovarono tredici abbastanza grandi da contenere un nano ciascuno. Alcuni anzi erano troppo larghi e mentre vi si arrampicavano dentro i nani pensarono ansiosamente alle scosse e agli urtoni che avrebbero ricevuto lì dentro, anche se Bilbo fece del suo meglio per trovare della paglia e altra roba per imballarli con la massima cura consentita dal tempo che stringeva. Alla fine dodici nani furono sistemati. Thorin aveva dato un sacco di fastidio e si era girato e contorto nel suo tino e aveva ringhiato come un grosso cane in un piccolo canile, mentre Balin, che fu l'ultimo, fece un sacco di storie per i buchi da ereazione e disse che soffocava anche prima che venisse fissato il coperchio. Bilbo aveva fatto quanto aveva potuto per tappare i buchi sui lati dei barili e per fissare tutti i coperchi con la massima accuratezza possibile e adesso era rimasto di nuovo solo, correndo attorno, dando gli ultimi tocchi all'imballaggio e sperando contro ogni ragione che il suo piano riuscisse. Aveva finito appena in tempo, un solo minuto o due dopo che il coperchio di Balin era stato fissato, ecco arrivare il suono di varie voci e il bagliore delle luci. Un certo numero di elfi entrò nelle cantine ridendo, chiacchierando e cantando dei ritornelli. Avevano lasciato un'allegra festa in una delle sale superiori ed erano propensi a tornarci appena possibile. «Dov'è il vecchio Galion, il maggiordomo?» disse uno. «Non l'ho visto a nessuna tavola stasera. Adesso dovrebbe essere qui a mostrarci cosa bisogna fare. Se quel vecchio posa pieno ritarda gliene dirò di tutti i colori», disse un altro. «Non ho nessuna voglia di perdere tempo qui sotto mentre lassù si canta?» «Aha!» risuonò un grido. «Eccolo qui quel vecchio zottico con la testa sul boccale! Ha fatto una festicciola tutta per sé per il suo amico capitano!» «Scuotilo, sveglialo!» strillarono gli altri con impazienza. Galion non fu affatto contento di essere scosso e svegliato e ancor meno di essere preso in giro. «Siete in ritardo!» borbottò. «Sono tre ore che sto qui ad aspettarvi mentre voi altri bevete, fate festa e dimenticate i vostri doveri!» «C'è poco da meravigliarsi se mi addormento dalla noia!» «C'è proprio poco da meravigliarsi!» dissero quelli. «Quando la spiegazione sta a portata di mano in un boccale!» «Sovia, facci assaggiare il tuo sonnifero prima che ci addormentiamo anche noi! Non c'è bisogno di svegliare cotesto carceriere, a guardarlo si direbbe che abbia già avuto la sua parte. Fecero una bevuta in circola e diventarono subito un po' alticci, ma non persero tutto il loro buonsenso. «Per dinci, Galion!» gridarono alcuni. «Hai cominciato presto il tuo festino e hai perso il senno! Hai ammucchiato dei barili pieni qui invece di quelli vuoti a giudicare dal peso!» «Avanti col lavoro!» grugnì il maggiordomo. «Non potete giudicare un bel nulla voi con quelle vostre pigre braccia da sgoccia boccali! Sono quelli e basta! Fate come vi dico!» «Benissimo, benissimo!» dissero rotolando i barili verso l'apertura. «Che ricada sul tuo capo se i tini pieni del burro del re del suo vino migliore vengono buttati nel fiume per far festa gratis agli uomini del lago! Rotola, 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 ro! Giù per il buco! Rotola, ro! Issa sfruzzi! Issa tonfi! Che laggiù l'acqua li gonfi!» Così cantavano mentre prima un barile e poi un altro rotolavano con fracasso verso la buia apertura e venivano fatti cadere nell'acqua fredda circa un metro più sotto. Alcuni barili erano realmente vuoti, altri erano tini bellamente imballati con un nano per uno, ma andarono giù tutti, uno dopo l'altro, con molti spruzzi e un tonfo, cadendo sopra quelli che stavano di sotto, precipitando in acqua con uno schiocco, sballottando contro le pareti del tunnel, urtandosi reciprocamente e sobbalzando via seguendo la corrente. Fu proprio allora che Bilbo scoprì improvvisamente il punto debole del suo piano. Molto probabilmente voi lo avevate già scoperto da un pezzo e state ridendo di lui, ma dubito molto che al posto suo avreste dimostrato più di metà della sua bravura. Il fatto è che lui personalmente non era dentro un barile e non c'era nessun altro a imballarlo, anche se ce ne fosse stata la possibilità. Questa volta avrebbe veramente perso i suoi amici, quasi tutti erano ormai scomparsi attraverso la botola e sarebbe rimasto indietro solo come un cane, costretto in eterno a strisciare come scassinatore fisso nelle caverne degli elfi. Infatti anche se fosse riuscito a scappare attraverso le porte superiori in quello stesso istante, aveva una possibilità veramente minima di poter mai più ritrovare i nani. Infatti non sapeva in che modo si arrivasse via terra al luogo dove si raccoglievano i barili. Si chiedeva anche cosa mai sarebbe accaduto loro senza di lui, perché non aveva avuto il tempo di dire ai nani tutto quello che aveva appreso o tutto quello che aveva pensato di fare una volta che fossero usciti dal bosco. Mentre tutti questi pensieri passavano per la sua mente, gli elfi, che erano allegrissimi, cominciarono a cantare una canzone attorno alla porta del fiume. Alcuni erano già andati a tirare le corde che comandavano la saracinesca della chiusa, così da fare uscire i barili appena fossero tutti in acqua. Sul rapido ruscello voi tornate alle terre che un dì conoscevate. Abbandonate le caverne ascose fra le montagne nordiche e rocciose, dove l'immensa squallida foresta grigia declina e nel buio s'arresta. Navigate degli alberi oltre il ciglio, dove la brezza muore in un bisbiglio. Oltre i giunchi, oltre il mondo lagunare, trema l'erba del vento all'alitare. Oltre la bruma bianca come la neve che dai laghi e gli stagni salza lieve. Seguite or su le stelle che nel cielo salgono per una via di freddo e gelo. E quando l'alba già la notte muore, tutta la terra in onda di chiarore. Voltate verso il sud, al sud andate, e la luce del sole ricercate. Ai pascoli tornate, ai verdi prati, che mucche e buoi di erba ansaziati. Ai giardini sui colli, in mezzo ai fiori, ove le bacche si colman d'umori. Alla luce del sole, in pieno giorno, correte al sud, al sud fate ritorno. Sul rapido ruscello voi tornate, alle terre che un dì conoscevate. A questo punto l'ultimissimo barile venne fatto rotolare verso la botola, in preda alla disperazione, e non sapendo che altro fare, il povero piccolo Bilbo ci si afferrò freneticamente e fu spinto fuori assieme ad esso. Con un tonfo cadde in acqua, nell'acqua fredda e scura col barile sopra di sé. Tornò a galla sputando e aggrappandosi al barile come un topo, ma nonostante tutti i suoi sforzi non riuscì ad arrampicarci si sopra. Ogni volta che ci provava il barile rotolava su se stesso e lo respingeva di sotto. Era proprio vuoto e galleggiava con la leggerezza di un pezzo di sughero. Sebbene avesse le orecchie piene d'acqua, Bilbo poteva sentire gli elfi che continuavano a cantare nella cantina sovrastante. Poi improvvisamente la botola ricadde con un rimbombo e le loro voci svanirono. Egli si trovava nel tunnel scurissimo galleggiando sull'acqua gelata tutto solo, visto che non si possono prendere in considerazione amici che siano stati imballati dentro barili. Ben presto una macchia grigia gli apparve davanti in tutto quel buio. Egli udì il cigolio della chiusa che veniva sollevata e si ritrovò in mezzo a una massa galleggiante e sobbalzante di botti e tini che si urtavano a vicenda per passare sotto l'arco e uscire fuori all'aperto. Fece del suo meglio per impedire di venire ammaccato e schiacciato, ma alla fine quella massa pigiante cominciò a diradarsi e a scivolare, un barile dopo l'altro, sotto l'arco di pietra e via nel fiume. Allora si rese conto che sarebbe stato inutile mettersi a cavalcioni del barile, anche se ci fosse riuscito, poiché neanche per una hobbit c'era abbastanza posto tra la parte superiore di questo e l'improvviso spiovere del tetto lì dove c'era la chiusa. Uscirono sotto i rami degli alberi che si chinavano sull'acqua dall'una e dall'altra riva. Bilbo si chiedeva come si sentissero i nani e se era entrata molta acqua nei loro tini. Alcuni di quelli che galleggiavano accanto a lui nella penombra sembravano affondare un bel po' ed egli immaginò che in questi ci fossero i nani. Spero proprio di aver fissato bene i coperchi, pensò, ma non passò molto tempo che fu troppo preoccupato di se stesso per ricordarsi dei nani. Era riuscito a mantenere la testa fuori dell'acqua, ma rabbrividiva dal freddo e si chiedeva se ne sarebbe morto prima che la fortuna cambiasse, per quanto tempo ancora sarebbe stato capace di resistere e se doveva rischiare di mollare la presa e cercare di nuotare fino a riva. Presto la fortuna girò per il verso giusto. La corrente turbinosa trasportò parecchi barili in uno stesso punto vicino a riva e lì esse rimasero fermi per un po' trattenuti da qualche radice nascosta. Allora Bilbo colse l'occasione per arrampicarsi sopra il suo barile mentre veniva tenuto fermo dagli altri. Strisciò su come un topo sul punto di affogare e giacque disteso in modo da distribuire il suo peso e mantenere l'equilibrio quanto meglio poteva. La brezza era fredda, ma sempre meno dell'acqua ed egli sperò di non rotolare giù di nuovo una volta ripartiti. Non ci volle molto perché i barili si liberassero di nuovo e girassero e rigirassero giù per il fiume e poi al centro della corrente. Allora trovò abbastanza difficile tenersi in equilibrio, come aveva temuto, ma alla meno peggio ci riuscì anche se stava tremendamente scomodo. Per fortuna c'era molta luce e il barile era bello grosso e avendo varie crepe aveva ora imbarcato una certa quantità d'acqua. In tutti i modi era come cercare di scavalcare, senza briglie, senza staffe, un poledro panciuto il cui unico pensiero fosse quello di rotolarsi sull'erba. Così finalmente il signor Baggins arrivò a un posto dove su entrambe le rive gli alberi erano più radi e poteva vedere il cielo più chiaro tra i rami. Il fiume nero si allargò improvvisamente alla confluenza col corso d'acqua più grosso, il fiume Selva, che scorreva giù dai grandi portali del re. C'era uno specchio d'acqua tremolante che non era più coperto dall'ombra e sulla sua fluida superficie nuvole e stelle si riflettevano componendosi e scomponendosi in una sorta di danza. Poi l'acqua turbinosa del fiume Selva travolse tutti quanti i tini e i barili e li spinse sulla riva settentrionale dove aveva scavato una vasta baia formata da una spiaggia coperta di ciottoli sotto gli argini incombenti. Sulla parte orientale essa era protetta da un promontorio molto sporgente che formava un muro di roccia dura. La maggior parte dei barili si arenò sul bordo della spiaggia, però qualcuno fu spinto a urtare contro la banchina di pietra. C'erano diverse persone in attesa sulle rive, servendosi di perti che tirarono in secca tutti i barili e dopo averli contati li legarono insieme e li lasciarono lì fino al mattino seguente. Poveri nani, Bilbo adesso non stava proprio malaccio. Scivolò giù dal suo barile e sguazzò nel bagnasciuga, poi strisciò furtivamente verso qualche capanna che si poteva vedere non lontano dal fiume. Non ci avrebbe pensato due volte ora a sgraffignare del cibo senza essere stato invitato se gli fosse capitata l'occasione. Era stato costretto a farlo a lungo ormai e sapeva anche troppo bene che cosa volesse dire avere veramente fame e non semplicemente un educato interesse alle squisitezze di una dispensa ben fornita. Inoltre aveva intravisto il bagliore di un fuoco attraverso gli alberi e questo lo attirava inesorabilmente visto che i vestiti sgocciolanti e stracciati gli stavano appiccicati addosso freddi e viscidi. Non è il caso di sprecare molte parole per descrivere le sue avventure di quella notte perché ormai siamo quasi vicini alla fine del suo viaggio verso oriente in vista dell'ultima e più grande avventura, così dobbiamo sbrigarci. Naturalmente con l'aiuto dell'anello magico tutto gli andò molto bene all'inizio. Presto però fu tradito dalle orme bagnate dalle sgocciolature che lasciava dietro di sé dovunque andasse o si sedesse. Inoltre cominciò a starnutire e quando cercava di nascondersi veniva sempre scoperto grazie alla tremenda esplosione dei suoi starnuti repressi. Ben presto ci fu una bella agitazione nel villaggio sulla riva del fiume ma Bilbo scappò nei boschi portandosi una pagnotta, una borraccia di vino e una torta che non gli spettavano. Il resto della notte dovette passarlo bagnato com'era e lontano da qualsiasi fuoco ma in questo fu aiutato dalla borraccia ed egli riuscì addirittura a sonnecchiare un pochino su un letto di foglie secche anche se essendo ormai vicino all'inverno l'aria era piuttosto freddina. Si risvegliò con uno starnuto particolarmente violento. Il grigio mattino era ormai arrivato e c'era un allegro baccano giù vicino al fiume. Si stava facendo una zattera coi barili e gli elfi barcaioli l'avrebbero presto spinta giù per il fiume fino a Ponte Lago Lungo. Bilbo starnuti di nuovo, i suoi abiti non sgocciolavano più ma si sentiva addosso un freddo cane. Sgambettò giù alla massima velocità consentitagli dalle gambe irrigidite e riuscì per un pelo a infilarsi nella massa di tini senza farsi notare. Per fortuna quell'ora non c'era al sole a proiettare un'ombra inopportuna e per dono del cielo per un bel po' egli non starnuti più. Ci fu un gran spingere con le pertiche e gli elfi che stavano nell'acqua bassa si dettero da fare per scostare la zattera dalla riva. I barili, ora legati tutti insieme, scricchiolarono e ondeggiarono. Che razza di carico pesante, brontolò qualcuno. Affondano un po' troppo. Qualcuno non è mai vuoto. Se ci fossero arrivati di giorno avremmo potuto aprirli e darci un'occhiata, essi dissero. Non c'è tempo adesso, gridò lo zatteriere, spingete! E finalmente si mossero, dapprima lentamente, finché non ebbero passato il promontorio roccioso dove c'erano altri elfi pronti a respingerli con delle pertiche e poi sempre più velocemente man mano che si inserivano nella corrente, diretti a sud verso il lago. Erano evasi dalle segrete del re e avevano attraversato il bosco, ma se fossero vivi o morti restava ancora da vedere. Buonasera amici di YouTube e benvenuti al commento post lettura del capitolo 9 dell'Hobbit intitolato Barili di contrabbando nelle più recenti localizzazioni italiane del libro e la botte piena la guardia ubriaca nella mia vecchia edizione ad elfi con ancora segnato il prezzo in lire. Durante il montaggio di questo video ho preferito usufruire del nuovo titolo piuttosto che il vecchio, il quale ritengo sia una storpiatura piuttosto immotivata, nonostante la natura relativamente allegra del romanzo. Ovviamente il vecchio titolo fa riferimento al proverbio nostrano la botte piena la moglie ubriaca, ma siccome non c'è un detto o un proverbio anglosassone che Tolkien cita a questo punto dell'avventura di Bilbo Baggins e riferimento al capitolo, non riesco più ad accettare la licenza poetica di Elena Geronimi di Sconte, la professionista che si è occupata della localizzazione della mia edizione. Sottolino che non c'è nulla di male in queste operazioni, una delle prime cose che ci insegnano quando ci si approccia alla traduzione di un testo è che il testo non va mai tradotto letteralmente, altrimenti il prodotto finale sarà sempre talmente piatto, vacuo e statico da rendere molto difficile la lettura, che invece deve essere una cosa istintiva. I testi tradotti devono essere personali e organici. La questione non è cercare di mantenere la medesima magia dell'originale nella lingua in cui è stato scritto, ma riprodurla sotto forma diversa. Ecco perché il mestiere del traduttore, specialmente il traduttore che si occupa di opere molto complesse, è un lavoro assai difficile e su cui grava una grande responsabilità. E per quanto io abbia accettato per molti anni la traduzione antica del capitolo 9, cioè questa storpiatura di proverbio, la botte piena, la guardia ubriaca, temo di non riuscire ad accettarla più perché la trovo insensata in questo contesto, una licenza poetica non così di buon gusto quanto ci si possa aspettare. E per quanto Barilli di contrabbando sia un titolo anche un po' sottotono rispetto all'originale, Burrell's Out of Bond, almeno non fa voli pindarici, dato che, almeno con la terra di mezzo, pretendo un certo rigore. Dunque, capitolo 9. Gli elfi silvani della stirpe Nandor c'erano già stati presentati al termine del precedente, capitolo 8, Moscherani. Thorin è stato il primo dei nani a venire catturato dalle guardie di Sire Tranduil, il cui nome non viene mai fatto nella Hobbit, è un'informazione che Tolkien ci fornirà per completezza molti anni dopo nel Signore degli Pennelli, ma siamo certi che sia lui. Verso il termine della battaglia contro gli arachnidi di Bosco Atro, successivamente verranno catturati tutti gli altri nani, ma fino a quel momento nessuno si era preso un istante per contare tutti i presenti, cosa che Gandalf invece faceva al termine di ogni vicissitudine. Ci manchi, caro stregone. Thorin è stato quindi interrogato prima di tutti gli altri da Tranduil e dagli altri elfi, ma l'interrogatorio non ha sortito alcun effetto, ha risposto anche in maniera arrogante memore dei brutti trascorsi tra gli elfi e i nani, specialmente quelli di Erebor, e è stato posto in una cella di isolamento lontano dal resto della compagnia che è arrivata in un secondo momento, nel tentativo di piegare la volontà di quest'ultima. Bilbo salva nuovamente i protagonisti, ma la situazione è differente, forse anche più impegnativa rispetto a quella del capitolo prima. Il piccolo Hobbit si trova costretto a prendere parte a una vera e propria missione di infiltrazione, aiutato per fortuna dal potere di mimetizzazione dell'unico anello, la sua benedizione, ma futura maledizione di un intero continente. Se con i ragni Bilbo dovette tirar fuori tutto il coraggio possibile per la sopravvivenza, nel reame degli elfi silvani egli deve invece dimostrare grandi dosi di pazienza e soprattutto di cautela, una nuova fibra mentale di cui fino a quel momento non necessitava e deve anche formulare un piano efficace, più o meno, per cercare di fare vadere tutti e tredici i nani dalle grinfie di Retranduil. È un nuovo test che accompagna Bilbo nel suo percorso di crescita, che mette alla prova differenti facoltà e che, sebbene in modo rocambolesco, rimpiangendo per l'ennesima volta il suo smiale e il caffè sulla cucuma, l'Hobbit riesce a superare a pieni voti. Resta il fatto che senza di lui la quest per la montagna solitaria si sarebbe già interrotta svariate volte. Il nostro commento al capitolo 9 sarà quasi interamente dedicato alla razza elfica, nel folklore medievale del mondo reale e nella moderna concezione tolkieniana. Apriremo un'enorme parentesi su come e dove il professore abbia colto l'ispirazione per ricreare queste creature, dopodiché passeremo in rassegna tutta la storia degli elfi nel leggendarium tolkieniano, suddividendoli nella maniera più chiara possibile, almeno me lo auguro. E poi vedremo da vicino gli elfi silvani che Tolkien ha trattato nel capitolo 9 del libro rosso dei confini occidentali. E viene, dovrebbe venire anche molto comodo perché sono stati tra gli ultimi a entrare in scena. Questa però vi devo informare ufficialmente sarà anche l'ultima lettura di un singolo capitolo dell'Hobbit che faremo alla volta, almeno fino al diciannovesimo l'ultimo. Come vi ho già accennato in precedenti occasioni, a partire dall'ottavo capitolo la trama Scende la China e i capitoli si fanno sempre più brevi e interconnessi tra di loro, tanto da rendere superfluo ogni mio singolo commento, come ad esempio nel caso dei capitoli 14, 15 e 16 che parlano tutti insieme dell'attacco a Ponte Lago Lungo e delle sue dirette conseguenze. Non saprei che cosa dire per ogni singolo capitolo, contando che alcuni di loro sono anche molto brevi e quindi sarebbe inutile leggerli da soli, avrebbero degli inutili cliffhanger che ti farebbero venire soltanto voglia di girare pagina e anche di parlare in un'occasione sola di tutto quello che si è detto nelle ultime pagine che sono state lette. In base a questo criterio ho calcolato che affronteremo 5 appuntamenti ben distinti, escludendo questo, per terminare finalmente il libro rosso. Parliamo quindi degli Elfi, eravamo già entrati in contatto con alcuni esponenti dei primi figli di Lúvatar durante la lettura del terzo capitolo, un breve riposo, infatti abbiamo parlato di parte della loro storia, quando Sire Elrond di Granburrone nella valle di Imladris aiutò Inani a decodificare le rune lunari sulla mappa di Train per indicare loro dove e quando avrebbero dovuto trovarsi a Erebor per attraversare l'ingresso segreto che li avrebbe portati nella camera dove Smaug dimora. Quelli, tuttavia, gli abitanti di Granburrone erano soprattutto Elfi Noldor. La stirpe di Tranduil è indicata con parole diverse, tendono essere Elfi molto meno saggi, meno positivi di indole rispetto ai cugini, più defilati e selvatici e più attaccati a cose triviali come ad esempio il valore delle pietre preziose per quanto, come tutti gli Elfi, essi siano attaccati alla natura e al destino finale del pianeta Arda. Durante lo studio degli Elfi per questo capitolo sono rimasto impressionato dall'immagine che il film della Hobbit, non quello odierno ma quello del 1977 di animazione diretto da Jules Bass e Arthur Rankin, offre di questa razza. Cominciamo dai Noldor di Elrond e gli Elfi di Granburrone. Qui potete vedere alcuni fotogrammi della scena in cui il sire elfico riconosce le spade Orcrist e Glamdring e aiuta i nani a decrittare la mappa. Per quanto differente questo aspetto sembra rappresentare su vari aspetti la saggezza e la vezzosità della stirpe dei primi figli, non badate allo stile cartonesco un pochino kitsch. Quando tuttavia gli Elfi Silvani entrano in scena più avanti nel medesimo film, oh signor, basta percorrere qualche centinaio di chilometri e ci troviamo di fronte a dei ghoul. La trasposizione animata è uscita 23 anni dopo la pubblicazione del Signore degli Anelli, 38 anni dopo la pubblicazione della Hobbit. Tolkien era mancato da più di 4 anni ed il Silmarillion era già stato pubblicato anche se suppongo che non l'avessero letto. Come mai qui gli Elfi sono così diversi tra loro? Come se gli Elfi Silvani fossero una versione cattiva e decaduta degli Elfi di Imladris? Solo perché svolgono il ruolo di antagonisti secondo il punto di vista della compagnia dei 13 nani? È possibile ma è anche vero che nelle sue opere principali, La Hobbit e il Signore degli Anelli, Tolkien non fornisce una descrizione univoca e chiara degli Elfi. Sappiamo, grazie al terzo capitolo del Libro Rosso, che Elrond ha un aspetto rassicurante, cito testualmente. Era nobile e bello in viso come un sire elfico. Grazie, sei un sire elfico? No, in realtà è un mezzelfo, tiè! Forte come un guerriero, saggio come uno stregone, venerabile come un re dei nani e gentile come la primavera. Questa descrizione va molto a metafore e permette soltanto di immaginare in senso lato, che aspetto dovesse essere o quale, o più che altro quale fosse il risultato negli occhi delle altre persone dell'aspetto di questo mezzelfo. E dunque l'immagine rassicurante di Elrond nel film di base ranking del 77 non si può dire che sia discordante. I Silvani di Boscoatro ricevono queste altre parole al termine del capitolo 8 Mosche e Ragni, non sono malvagi. Se hanno un difetto è quello di difidare degli stranieri e sebbene a quei tempi grande fosse il loro potere magico, tuttavia stavano molto attenti. Erano diversi dagli Elfi alti dell'Ovest, anche qui io dubito che questa frase vada presa letteralmente, più che altro come indole, erano diversi, ed erano più pericolosi e meno saggi. E nonostante il Legendarium della Hobbit faccia fatica a connettersi con quello definitivo del Signore degli Anelli e del Silmarillion, qui il Professor Tolkien aduce già il motivo principale che causò la netta separazione tra alcune delle stirpi elfiche. Infatti la maggior parte di loro, assieme a quei loro parenti che vivevano sparsi qua e là sulle colline e sulle montagne, discendeva da antiche tribù che non andarono mai nel paese incantato ad occidente, a Valinor Aman, la terra dei Valar. Gli Elfi luminosi, gli Elfi sotterranei e gli Elfi marini, tre, invece ci andarono e ci vissero a lungo e divennero sempre più belli, più saggi, più colti e perfezionarono le loro arti magiche e la loro abilità manuale nel fare cose belle e mirabili, prima che alcuni ritornassero nel vasto mondo, tornati da Valinor. Il paragrafo successivo aggiunge qualche dettaglio sulle particolarità degli Elfi Silvani. Nel vasto mondo gli Elfi Silvani indugiavano i raggi più miti del nostro sole e della nostra luna, anche se preferivano le stelle, ed erravano per le grandi foreste che si ergevano alte in terre che ora sono andate perdute, ne parleremo. Per lo più dimoravano ai margini dei boschi, da cui talvolta potevano uscire per cacciare, correre o cavalcare sulle terre aperte alla luce della luna o delle stelle, e dopo l'arrivo degli uomini si assuefecero sempre di più al crepuscolo e alla penombra. Tuttavia, Elfi erano e rimanevano, vale a dire, gente buona. Nemmeno dal Signore degli Anelli si può estrapolare una descrizione fisica efficace degli Elfi. Durante il primo incontro di Frodo e Sam con queste creature nella Compagnia dell'Anello, erano molto probabilmente esponenti dei Noldor, viene sottolineata la luminosità degli Elfi nonché la loro nobiltà d'animo, e per quanto anche il lettore non rimanga impassibile di fronte all'incredibile devozione che Frodo e Sam e i piccoli Hobbit provano verso di loro, i fatti concreti latitano ancora. Camminavano lentamente, e i tre amici potevano vedere la luce delle stelle scintillare sui loro capelli e nei loro occhi. Non portavano con sé alcuna luce, eppure pareva emanare dai loro piedi un barlume simile a quello che diffonde la luna prima di salire alta nel cielo, lungo i contorni delle montagne e delle colline. Ora avanzavano in silenzio, e quando finalmente furono passati tutti, l'ultimo Elfo si voltò, e guardando gli Hobbit scoppiò a ridere. Il secondo Elfo che viene presentato di persona nella Compagnia dell'Anello è Glorfindel durante il capitolo Fuga al Guado. Anche qua manca una descrizione fisica accurata, per fortuna Tolkien odia gli elenchi statici e non ne fa uso, ma si sottolineano i suoi lunghi capelli, fluenti e biondi. Dopo l'arrivo a Granburrone il personaggio viene ripreso. Glorfindel era alto e dritto. I capelli d'oro luccicavano ed il viso era bello e giovane ed impavido e pieno di gioia. Gli occhi appassionati brillavano e la voce era soave come musica. In fronte portava saggezza ed in mano vigore. A pagina 290 nel capitolo Molti incontri seguono descrizioni rinnovate di Elrond e la descrizione di un altro importante personaggio elfico. Il volto di Elrond non aveva età, non era né vecchio né giovane, eppure recava vivo il ricordo di molte cose tristi e di molte cose felici. I capelli erano scuri come le ombre del crepuscolo ed in testa portava un cerchietto d'argento. Nei grigi occhi limpidi scintillavano miriadi di stelle. Venerabile come un re coronato da molti inverni eppure vigoroso come un eroico guerriero nella pienezza delle sue forze. Egli era il signore di Granburrone, potente tanto tra gli elfi che tra gli uomini. Al centro della tavola, appoggiato contro gli arazzi appesi alle pareti, vi era un baldacchino sotto al quale sedeva una graziosa dama. Tanto rassomigliava Elrond che Frodo capì che doveva essere legata a lui da stretta parentela. Giovane era, eppure non tanto. La chioma corvina non era sfiorata dalla brina, le braccia bianche ed il viso limpido erano lisci e vellutati, e miriadi di stelle risplendevano negli occhi grigi come crepuscolo luminoso. Ma il portamento era regale, e lo sguardo rivelava riflessione e saggezza, apprese attraverso anni di esperienza. Sul suo capo era posata una cuffietta di pizzo argente o ricamata di pietre preziose e scintillanti, ma la veste di un grigio pallido non aveva altro ornamento che una cinta di foglie intrecciate con fili d'argento. Fu così che Frodo vide colei che pochi fra i mortali avevano ammirata, Arwen, figlia di Elrond, che si diceva reincarnasse le sembianze di Luthien, e che fu chiamata Undomiel, poiché era la stella del vespro del suo popolo. Mai prima d'allora Frodo aveva visto e immaginato una tale bellezza in un essere vivente. Questi termini non contrastano con l'immagine di Elrond nel film del 1977, il film incriminato. È stato mantenuto relativamente simile a un essere umano, gli occhi sono davvero intensi. La barba non è canonicissima, dato che pochissimi elfi la portano e fanno rumore in questo caso, come ad esempio Sirdan il Carpentiere. Io lo trovo vagamente simile a David Bowie in Labyrinth. Abbiamo invece dati oggettivi sugli altri elfi, gli elfi silvani nel Signore degli Anelli? Di Legolas, figlio di Tranduil e di madre ignota durante il consiglio di Elrond, sappiamo soltanto che ha un aspetto strano, questo scrive Tolkien, ma ha un bel viso ed è un elfo piacevole alla vista. Un altro illustre elfo silvano, Aldir, non gode di una descrizione all'interno del libro, mentre in contrasto Dama Galadriel, un elfa della stirpe Noldor, riceve una descrizione vaga ma talmente positiva che penso vi risparmierò, sarebbe la palissiana, parla da sola Cate Blanchett. Concentriamoci su altri elfi silvani. Una prova inconfutabile, ma lo sapevamo secondo me, del bell'aspetto dei Nandor, i silvani, del tutto confrontabile con quello delle altre specie, è nella canzone dedicata alla fanciulla Nimrodel, che Legolas canta all'uscita dalle miniere di Moria. E un'altra storia d'amore finito in tragedia che spesso non viene citata o scurata da racconti del Legendarium ancora più celebri di questo. Lunghi i capelli, bianca la pelle, chiara la voce della libera fanciulla volante, nell'aria e nel vento come luce veloce, come sul tiglio, foglia vibrante. Nel Nimrodel fra le cascate, dalle acque chiare e spumeggianti, la sua voce come gocce argentate squillava tra i flutti scintillanti. Insomma, direi che il materiale consultabile sia sufficiente. Gli elfi silvani non hanno nulla da invidiare in quanto ad aspetto a qualsiasi altro elfo. Non esistono elfi belli ed elfi brutti o elfi meno belli. Anche se è vero che esistono elfi luminosi, secondo Tolkien. Di conseguenza devono esistere anche elfi che non lo sono. Però questa non è una differenza fisica, è soprattutto una differenza culturale, esacerbata da millenni di vita passata a contatto con ambienti differenti, soprattutto Valinor, la terra delle entità subcreatrici dei Valar. E non è cosa da poco. Questa è la grande motivazione, il principale divisore che ordina le stirpi elfiche, secondo Tolkien. Molti elfi vennero invasi dalla luce di Valinor e scelsero di dimorare lì per l'eternità, a stretto contatto con le entità subcreatrici. Altri dimorarono a Valinor per un lungo periodo, ma ad un certo punto scelsero di tornare alla terra di mezzo con il pesante bagaglio culturale ereditato dai Valar. Altri provarono a raggiungere le terre di Aman, ma non riuscirono e rimasero bloccati a metà strada. E alcuni altri rifiutarono fin dall'inizio questo gentile invito. Non cercarono mai la terra di Aman, le terre imperiture, e per questo, cito testualmente Tolkien, con il tempo divennero meno saggi e più pericolosi delle controparti illuminate. Qualsiasi differenza estetica importante tra elfi nelle trasposizioni degli ultimi 50-60 anni non è giustificabile. La ben citata bellezza di questa razza nelle opere tolkieniane e la loro rinomata abilità di combattimento lasciano facilmente presupporre che gli elfi siano molto simili agli esseri umani. Perfino la natura stessa della loro esistenza all'interno del Legendarium, motivo per cui in primis Tolkien li inventò o li reinventò, allacciandosi a una sua particolare visione della cosmogonia cristiana, lascia presupporre una foggia magari più eterea, ma di certo non molto distante da quella dei secondi figli di Lúvatar, ovvero l'uomo. Gli elfi non sono una creazione tolkieniana. Oppure sì. Non sottovalutate il padre dell'iFantasy moderno, potrebbe aver fatto più di quanto immaginiate. Il termine elfo è antico ed è presente in quasi tutte le lingue germaniche, proveniente molto probabilmente da un lemma del proto-germanico, la lingua teorica che deve avere accumunato nell'antichità tutte le moderne parlate di questo ceppo, albis. Secondo gli studiosi però si può ricondurre ancora più indietro a una radice del proto-indo-europeo albos, dal quale è derivata la parola latina albus che sta per chiaro, bianco o luminoso. La usiamo parecchio ancora oggi, ad esempio per il termine albino. Una parola che a distanza di 4.000 anni, secondo le stime, rappresenta ciò nonostante l'indole generale degli elfi e ci permette perfino di nominare un personaggio di Harry Potter all'interno del contesto della Terra di Mezzo, lo prendo come un epicuin personale. La creatura comunque appartiene alla mitologia antica scandinava o norrena che dir si voglia, anglosassone oppure germanica. In tutte e tre queste mitologie l'elfo viene rappresentato diversamente. Cominciamo dagli inglesi. Una delle prime rappresentazioni assolute di un elfo in questa mitologia non ne dipinge un ritratto molto lusinghiero. Il Lachnunga, un compendio di rimedi pseudomagici e preghiere che all'epoca si sposavano bene con tutto, scritto in un misto di antico anglosassone latino risalente al X secolo d.C., quindi in alto medioevo, presentava, citava, un rimedio contro l'influsso negativo di un elfo. Una pozione, a base di vino e finocchio, da preparare e santificare prima di bere. Una persona immacolata al posto vostro doveva andare al ruscello e raccogliere silenziosamente, a quanto pare era importante, mezzo litro d'acqua che avrebbe funto da base per il medicamento. Ma cosa facevano di tanto malvagio questi elfi anglosassoni? La credenza comune che fossero delle piccole invisibili creature demoniache acquattate nei boschi, pronte a colpire capi di bestiame e talvolta anche gli uomini con delle frecce maledette, che avrebbero causato acuti dolori interni e talvolta anche lievi problemi mentali. Il termine elfshot, colpo d'elfo, divenne di uso comune all'epoca. E se mille anni fa un vostro amico avesse avuto un crampo improvviso, vi avrebbero detto che doveva essere stato colpito dalla freccia di un piccolo elfo bastardello. Più avanti, nel basso medioevo, gli elfi divennero a maggioranza femminile e nacque l'idea che esistessero principalmente come tentazione sessuale. Difficile a credersi, ma con l'andare del tempo e specialmente nei paesi anglofoni, il termine elfo cadde lentamente in disuso, a favore di un'altra parola rubata dal francese, fairy, fata, gli elfi si confusero sempre di più con i piccoli esserini che oggi conosciamo come fate, fino ad arrivare al tardo romanticismo ottocentesco, vi faccio un esempio a caso, Trilli di Peter Pan. L'immagine medievale dell'elfo resistette soprattutto a nord, in Scozia, sotto forma di creatura soprannaturale abitante alle campagne, ma gran parte dei paesi anglofoni, dopo il rinascimento, il secolo buio, l'illuminismo e l'ottocento si dimenticarono degli elfi. Passiamo ai miti germanici, anche qui gli elfi non se la cavarono per niente bene, tanto che il loro termine divenne sinonimo diretto di avversità, l'alp, conosciuto da noi come incubo, non mi riferisco al sostantivo incubo riferito a brutto sogno, ma al nome proprio del demone, l'incubo, derivante dal latino incubare che significa giacere sopra, covare. L'incubo era un demone di varie forme, ma prevalentemente di sesso maschile, che soleva appoggiare il proprio corpo sul petto dei dormienti, tagliando loro il fiato e causandogli di conseguenza brutti sogni incubi, talvolta addirittura la morte. È da qui che deriva la parola incubo che usiamo oggi, sì, adesso sto usando proprio quella parola, dal demone che cova sul nostro corpo durante la notte. La cosa ancora più affascinante a livello filologico è che la parola tedesca per incubo è Alptraum, ovvero Sogno Delfo, proprio in riferimento alla creatura originata dai latini, l'incubo, chiamato da loro Alp. Per ultimo quindi affrontiamo la Scandinavia, i nostri amati, complicatissimi miti norreni. Il primo dei due testi di riferimento, manco a parlarne, è l'edda poetica del XIII secolo, una delle maggiori fonti di informazione sulle leggende scandinave. Uno dei personaggi dei vari racconti, Volundr, in inglese Weyland il fabbro, è un elfo dichiarato. Ha fatto coming out. Volundr o Weyland appare in numerose altre opere, ad esempio il suo personaggio è inciso sulle pietre di Ardhr, che sono quattro secoli più vecchie dell'edda poetica, ed è presente anche nel Beowulf, l'opera che sappiamo Tolkien ha sempre preso in grande considerazione. Egli però sembra non essere diverso dalle altre creature divine citate nell'edda poetica. In questo caso il termine Elf sembra identificare la sua presenza all'interno del gruppo delle divinità, delle entità sovrannaturali, e viene infatti spesso confuso con Eysir, il nome del gruppo delle divinità più famose che conosciamo, come ad esempio Odino, Thor e Loki, in perenne contrasto con i giganti Jutun. L'opera successiva, ledda in prosa di Snorri Sturluson, introduce la separazione degli Elfi in Docalfar, Elfi Oscuri, e gli Osalfar, Elfi Luminosi. Gli Elfi Oscuri, non solo di battesimo ma anche di carnagione, vivevano al di sotto della crosta terrestre. Gli Elfi Luminosi invece abitavano in un paradiso tutto loro, raggiungibile da uno dei tre pozzi situati alle radici dell'albero della vita, Yggdrasil, Alfemr, scusate le pronunce, la casa degli Elfi, all'interno della quale, cita ledda in prosa, gli Elfi Luminosi erano più radianti del sole stesso. Elfi Chiari, Elfi Oscuri è la tipica distinzione che tuttora facciamo nel fantasy moderno figlio di Dungeons & Dragons, il quale a sua volta è figlio di Tolkien, e lo stesso professore sembra indugiare su questa teoria, asserendo che sulla Terra di Mezzo, su Arda, esistano Elfi Luminosi, come abbiamo letto prima, ed Elfi che di conseguenza non sono stati investiti da questa luce. Non è proprio così. In questo caso, in riferimento agli antichi e originali miti norreni, ledda in prosa non viene ritenuta perfettamente attendibile, dato che subì una cristianizzazione dovuta all'introduzione di testi provenienti da Sud come l'Ellucidarium di Onorio di Ratisbona, il quale, a partire dal XII secolo, fece grande scalpore e successo in tutto il territorio europeo, venendo trascritto a mano qualcosa come 400 volte, infatti ne sono sopravvissute tuttora molte copie. Dunque, gli Elfi Oscuri e gli Elfi Luminosi potrebbero essere soltanto una versione alternativa del concetto di angelo e demone introdotto dalla religione cristiana, ma le due edde nascondono un'enorme quantità di misteri e pertanto non tutti gli studiosi si trovano d'accordo. Alcuni sottolinano l'esistenza di una terza categoria di creature nell'edda in prosa, Svartalfar e gli Elfi Neri, i quali come i Dokalfar e gli Elfi Oscuri vivono nel sottosuolo. I due potrebbero essere semplicemente la stessa cosa ed essere diventati nel corso dei secoli creature ben diverse dagli Elfi Luminosi e che siamo comunque abituati a conoscere, i Nani. Ci sono altre attestazioni riguardo la nascita dei Nani nelle altre mitologie, ma possiamo affermare con certezza che queste implicitamente non facciano anche loro riferimento ad essi? No. Come vi ho anticipato, nei secoli recenti la parola Elfo è stata confusa fino al punto tale da cadere quasi in disuso. E' stata associata a creature più piccole e infime come i Puck, i Goblin e gli Spiritelli dei Boschi. Esistono prove dell'intercambiabilità della parola Elfo e Fata durante l'Inghilterra elisabettiana, come ad esempio nella commedia di Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate. Inutile dire che Shakespeare espanse questa nomea al resto della cultura moderna anglofona per via della popolarità delle sue opere. Durante l'era vittoriana gli Elfi guadagnarono le loro proverbiali orecchie a punta, che Tolkien non ha mai attribuito in realtà ai suoi Elfi. Gli Hobbit portano le orecchie a punta, gli Elfi non è detto. Non troverete questa affermazione nelle varie opere, se non in una lettera liberamente interpretabile risalente al 1938, quando venne chiesto a Tolkien di descrivere sommariamente l'aspetto dei mezzuomini. Io di solito disegno una figura quasi umana, non una specie di coniglio fattato come alcuni dei miei recensori inglesi pensano, con un po' di pancia e le gambe corte, una faccia rotonda e gioviale, orecchie leggermente appuntite ed elfiche. Tolkien può riferirsi ai suoi Elfi, ma ci troviamo nel 1938, poco dopo la pubblicazione della Hobbit, perciò non possiamo essere certi di quanto lui stesso fosse sicuro dell'aspetto delle varie razze del suo Legendarium, oppure può riferirsi alla concezione vittoriana comune degli Elfi, con le orecchie a punta, però quelli erano alti anche 20 centimetri e svolazzavano in giro. Numerose altre lettere in realtà testimoniano l'assoluta somiglianza tra gli Elfi e gli esseri umani, come ad esempio la risposta che Tolkien diede a una fan a una lettera del 1954. Vengono rappresentati come una razza all'apparenza simile, e ancor di più se si va indietro nel tempo, a quella degli uomini e in tempi antichi della stessa statura. Non mi dilungherò qui sulle differenze che presentano rispetto agli uomini, ma suppongo che i Quendi siano effettivamente in queste storie molto poco simili agli Elfi e alle fate dell'Europa, e se dovessi razionalizzare direi che rappresentano uomini con facoltà estetiche e creative molto potenziate, più belli e più longevi, e più nobili. I figli di Elder, destinati a dissolversi prima dei successori, gli uomini, e a vivere solo attraverso quella sottile discendenza sanguinea che si è mescolata a quella degli uomini, che proprio grazie a questa discendenza si proclamavano nobili. Voilà, e così diamo anche un calcio al ritratto degli Elfi Silvani nella trasposizione del 77. Notate che Tolkien dice Elfi e fate proprio in accordo allo status quo post-vittoriano, gran parte del folklore, non soltanto quello anglofono, ma anche quello scandinavo, presto o tardi accomunò l'immagine degli Elfi e delle fate, relegandoli almeno in letteratura a un pubblico generalmente più infantile. E' la situazione in cui Tolkien si ritrovò nei primi decenni del XX secolo. Gli Elfi a partire dal Medioevo avevano avuto svariate identità, fino a ritrovarsi sul finire dell'Ottocento sotto forma di piccoli, talvolta dispettosi e serini, privi di una vera complessità. Egli infatti in questo caso sdegnò la mitologia associata a queste creature, soprattutto quella celtica, dalla quale in altri casi aveva attinto a piene mani. Vuole dare vita a una schiera di Elfi umanoidi completamente nuova. Se è vero che Tolkien per carità non inventò il termine Elfo, è vero che ne reinventò parzialmente il significato, attraverso la moderna concezione rinnovata degli Elfi che abbiamo visto riportata in ogni fantasy moderno e che identifichiamo ormai automaticamente al suono di questa parola. Possiamo affermare che senza la presenza di Tolkien staremmo ancora qui a battere le mani ogni volta che qualcuno afferma di non credere nelle fate. I racconti ritrovati, ovvero The Book of Lost Tales, il compendio di racconti che formarono la prima ossatura del Legendarium di Arda tra il 1917 e il 1927 prima di venire soppiantati da una nuova versione che divenne molti anni dopo il Silmarillion, presentano una versione degli Elfi non così distante ancora dalla concezione vittoriana, almeno alcuni di essi. Personaggi fondamentali della storia elfica come Feanor sono già presenti, coadiuvati tuttavia da altri Elfi canterini come i Solo Simpi, inseriti in contesti ben differenti rispetto a quelli a cui siamo abituati. In uno dei racconti iniziali, nonostante la presenza familiare già di alcuni nomi come Valar, Valinor, Erendil, Toleresea, l'impianto è completamente diverso e per buoni tratti incomprensibile anche per chi conosca bene il Silmarillion. Questi Elfi Solo Simpi dovrebbero essere diventati vent'anni dopo nella Hobbit gli Elfi marini, come abbiamo letto, ma aboliti e trasformati ulteriormente nella stirpe dei Teleri nel Signore degli Anelli. In The Book of Lost Tales si usa il termine gnomo, che Tolkien non userà mai più nel Legendarium definitivo. Questi gnomi diventeranno i Noldor, la stirpe elfica di Elrond. E sono citati anche i Teleri nei racconti ritrovati, ma sono differenti. Questi diventeranno nel Legendarium definitivo i Vanyar, gli Elfi più nobili in assoluto. Tutti i termini sono stati scambiati. Secondo queste prime stesure, gli Elfi erano stati un popolo di immensa potenza, decaduti a seguito dell'avvicendarsi dell'uomo. Un destino che si sta verificando nel presente della Terra di Mezzo definitiva, a cavallo tra la Terza e la Quarta Era. Gli Elfi stanno affrontando la migrazione definitiva verso Valinor per lasciare definitivamente spazio all'uomo. Uno dei rari testi folcloristici al quale Tolkien può essersi ispirato è il Tuatha de Danann, spero di pronunciarlo bene irlandese. Ma ciò nonostante è chiaro che Tolkien disdegnò, seppur con rispetto, questi miti e queste leggende ritenendoli troppo semplicistici, impossibili da riportare in narrazioni moderne se non attraverso profonde modifiche. La prima grande cosa che fece fu reinnalzare questi spiriti non all'altezza ma addirittura un gradino al di sopra dell'uomo, inserendovi una particolare visione personale di matrice cristiana. Per Tolkien e gli Elfi sono coppie pure degli esseri umani, sono gli umani immacolati, perennemente legati alla Terra, culturalmente più evoluti e in pace con qualsivoglia indole primitiva. Questo non significa, badate bene, che gli Elfi siano in tutto e per tutto superiori agli esseri umani, ormai a furia di video dovremmo averlo capito. Tolkien ha donato agli esseri umani il libero arbitrio e la possibilità di staccarsi definitivamente dall'universo fantasy che lui ha creato, di superare ogni confine dell'esistenza fino a raggiungere Ero Ilúvatar o addirittura superarlo recando la propria anima in luoghi del tutto ignoti. L'uomo è avulso dal mondo che può quindi utilizzare come strumento della propria volontà. La nostra estraneità alla creazione è il più grande dono che ci è stato fatto e che gli Elfi non riceveranno mai. Questi ultimi potranno sembrare in determinati aspetti e lo saranno anche superiori all'uomo, ma loro sono assoggettati ad Arda e al suo destino, noi no. L'evoluzione degli Elfi da fatine vittoriane a nobili malinconici primi figli di Ilúvatar ha scalato vari gradini. La riscrittura pressoché totale degli appunti degli anni 10 e 20 portò alla Hobbit, all'interno del quale gli Elfi si lasciano ancora andare a comportamenti un poco indecifrabili. La difformità di comportamento tra Elfi Silvani e Noldor è già abbastanza marcata, ma gli Elfi di Granburrone, per quanto aiutino i Nani nella loro quest grazie alla propria cultura, si incapponiscono lo stesso in canti molto allegri di benvenuto, anche un po' canzonatori. Scene che nel Signore degli Anelli non vedreste, i loro versi lì si trasformano in canti ammalianti di ben più ampio respiro, il loro interesse per le sorti della Terra di Mezzo si fa intenso e struggente. Nel Signore degli Anelli gli Elfi diventano figure tragiche e quasi un popolo fantasma, conscio del poco tempo che gli è rimasto a disposizione. Questi sono i veri Elfi di Tolkien, gli Elfi riabilitati della letteratura moderna. Gli Elfi vengono descritti come divisi in tempi antichi in due o tre specie. Uno, gli Eldar che hanno dato ascolto alla chiamata dei Valaro, delle potenze e dalla Terra di Mezzo hanno attraversato il mare per raggiungere l'Occidente. Due, gli Elfi minori che non hanno ascoltato questo richiamo. La maggior parte degli Eldar dopo un lungo cammino ha raggiunto le coste occidentali e ha attraversato il mare. Questi erano gli alti Elfi che hanno immensamente rafforzato i loro poteri e la loro conoscenza. Ma una parte di loro è rimasta nelle terre costiere del nord-ovest. Questi erano i Sindar o Elfi grigi. Gli Elfi minori quasi non compaiono se non come parte del popolo del regno elfico. Dalla parte settentrionale di Myrkwood e di Lorien, governato dagli Eldar, i loro linguaggi non compaiono. Gli alti Elfi che si incontrano in questo libro sono esiliati, tornati indietro dal mare alla Terra di Mezzo, dopo una serie di vicende che costituiscono argomento centrale del Sindmarillion, parte di una delle principali stirpi degli Eldar, i Noldor. O meglio, l'ultima discendenza di questi. Perché il Sindmarillion stesso e la Prima Età finiscono con la distruzione del Primo Potere Oscuro, di cui Sauron era un semplice ufficiale, e con la riabilitazione degli esiliati che ritornarono al di là del mare. Quelli che rimasti sono innamorati della Terra di Mezzo e tuttavia desiderano l'immutabile bellezza della Terra dei Valar. Da qui la creazione degli anelli, perché i tre anelli erano dotati appunto del potere di conservare, non di generare. Benché puri, perché non erano stati fatti da Sauron né toccati da lui, erano tuttavia in parte un prodotto della sua conoscenza e suscettibili di sottostare al controllo dell'Unico. Così, come lei potrà constatare, quando l'Unico viene distrutto, gli ultimi difensori della tradizione altoelfica e della bellezza perdono il proprio potere e se ne vanno. La medesima lettera del 1954 ribadisce la separazione degli Elfi in base al viaggio verso Valinor, ma siccome questo non fu l'unico evento che causò delle spaccature all'interno della razza elfica, cominciamo da questo momento a ripercorrere tutta la loro storia, dal momento in cui i primi Elfi si risvegliarono sulle sponde del lago di cui Vienen. Se non mi sbaglio abbiamo già sfiorato l'argomento nel commento del capitolo 7 della Hobbit e nel video di Q&A dedicato alla cosmologia di Arda. Tanto meglio conosciamo il set e possiamo ripartire agilmente da lì. Stiamo per addentrarci in un groviglio di personaggi tutt'altro che semplice, il motivo per cui ho evitato di parlare nel dettaglio degli Elfi fino a questo momento, ma non posso più fuggire. Mano a mano che proseguiremo nella loro storia aggiorneremo uno schema in sovrimpressione, cosicché ci abitueremo a considerare ogni nuovo ramo della razza elfica solo a partire dal momento in cui esso ha effettivamente incominciato ad esistere. Credo che sia l'unico modo per non complicare ulteriormente un argomento già fin troppo convoluto. Ci troviamo durante gli anni degli alberi Laureline del Perion prima ancora della creazione del sole. I Valar avevano abbandonato la terra di mezzo per difendersi da Melkor che aveva abitato quella vasta zona di penombra dove la luce degli alberi che erano situati a Valinor non poteva giungere. Quando la Valar Varda, compagna di Manwe, signore assoluto di tutti i Valar, terminò di ridisegnare le stelle in cielo che funsero infatti da guida e messaggeri per il popolo elfico, i primi figli di Luvatar si destarono sulle sponde di cui Vienen proprio secondo il volere di quest'ultimo. I Valar sapevano che presto o tardi i primi figli si sarebbero svegliati, non sapevano dove sarebbero apparsi. A lungo i primogeniti dimorarono nella loro prima casa accanto all'acqua sotto le stelle e percorsero la terra pieni di ammirazione. E presero a formare discorsi e a dar nome a tutte le cose che scorgevano. Chiamarono se stessi quendi, che significa coloro che parlano con voci, che fino a quel momento non avevano incontrato altre creature viventi che parlassero o cantassero. Il Valar Orome, signore delle foreste a bordo del suo destriero Nahar, ad un certo punto scoprì l'ubicazione del neonato popolo elpico e fu amore a prima vista non soltanto per Orome ma per tutti i colleghi Valar. All'inizio i figli maggiori di Luvatar erano più forti e più grandi di quanto non siano divenuti in seguito, non però più belli, perché sebbene la leggiadria dei quendi nei giorni della loro giovinezza fosse superiore a ogni altra beltà creata dai Luvatar, essa non è perita, ma vive in occidente e tristezza e saggezza l'hanno adornata. E Orome amava i quendi e li denominò nella loro stessa lingua Eldar, il popolo delle stelle, ma quel nome in seguito fu portato soltanto da coloro che lo seguirono in occidente. Prima che Orome potesse adoperarsi nel proteggere il popolo elfico, Melkor iniziò ad irretire tutti coloro che per un motivo o per l'altro si allontanarono dalle sponde del lago di cui Vienen. Li rapì o li convinse a passare dalla sua parte a suon di parole. fu l'inizio degli orchi, elfi decaduti e trasformati nell'anima a causa delle profonde terribili torture inflitte dal primo signore oscuro nei più infimi bassi fondi della fortezza di Utumno. Orome portò a Valinor la notizia della minaccia che gravava sul popolo elfico e tutti i Valar si radunarono in concilio per prendere una decisione. Alcuni di essi, come Aule, furono contrari all'idea di prendere provvedimenti diretti contro Melkor, per paura delle terribili conseguenze che un nuovo conflitto contro di lui avrebbe potuto scatenare su tutta Arda. Alla fine prevalse la linea di attacco e i Valar si mossero contro Melkor in difesa degli Elfi. Non lo faranno mai più per nessun'altra razza dei popoli liberi della Terra di Mezzo. Anzi, la successiva grande manifestazione diretta dei Valar, durante la seconda era della Terra di Mezzo, portò alla distruzione completa dell'isola di Elenna e il collasso della civiltà numenoreana. Su una cosa però Aule ebbe senz'altro ragione. La guerra tra i Valar e Melkor sconquassò totalmente la parte nord-orientale della Terra di Mezzo. Gli Elfi vennero tenuti all'oscuro del lungo assedio che si verificò alle porte di Utumno, ma videro comunque il cielo solcato da fulmini e enormi fuochi e la Terra tremare sotto i loro piedi. Alla fine, nonostante le ingenti perdite, l'assedio fu vinto. Utumno cadde, Melkor venne sconfitto in duello da Tulkas, il guerriero dei Valar, e venne portato a Valinor in catene, dove venne processato, dichiarato colpevole e imprigionato per tre ere, che sono un lungo periodo di tempo, sono circa 300 anni dei Valar, i quali corrispondono a poco meno di 3000 anni per come li concepiscono oggi, sulla Terra di Mezzo, nella Roccaforte di Mandos. Con il pericolo principale arginato per un sacco di tempo, gli Elfi avrebbero potuto tornare a vivere sulla Terra di Mezzo, ma quel continente restava oscuro, in eterna penombra, abitato dai servi di Melkor che si erano dati alla macchia, e i Valar avevano scoperto di amare tantissimo il popolo elfico. Perciò li chiamarono, si presentarono a loro con un invito ufficiale, lasciate la Terra di Mezzo e venite a Valinor, abitate insieme a noi, diventate il popolo eletto dei Valar. Di primo acchito gli Elfi non si fidarono dei Valar e chiesero delle prove, giustamente. Fu convenuto che tre di essi si dovessero recare a Valinor per vedere con i propri occhi quella terra e tornare indietro a riferire. Furono eletti Ingwe, Fingwe ed Elwe. I tre giunsero ad Aman e rimasero sconvolti dalla bellezza di quella terra e dalla luce emanata dall'Aurelin e Telperion. Scortati da Orome, tornarono indietro da cui viene e ne consigliarono a tutto il popolo elfico di accettare l'invito, ma qui avvenne la prima grande scissione del popolo elfico. I consanguinei dei tre Elfi ambasciatori decisero di intraprendere il viaggio verso Ovest. Questi furono chiamati Eldar, il nome che Orome aveva affibbiato a tutto il popolo elfico quando lo vide per la prima volta, il popolo delle stelle. Chi invece decise di non accettare fin da subito l'invito dei Valare di rimanere nella terra di mezzo, furono chiamati Avari, i riluttanti. Per il momento non parleremo di loro perché gli Elfi che intrapresero il viaggio verso Ovest si suddivisero ulteriormente in altre schiere. Gli Elfi in viaggio si divisero in tre schiere guidati da Ingue, Fingue ed Elwe. Quelli guidati da Ingue, i meno numerosi, giunsero senza troppi intoppi a Valinor e i vi restarono per l'eternità. Non tornarono mai più indietro alla terra di mezzo e a stento furono avvistati da qualunque altro esponente del popolo libero. Divennero gli Elfi chiari, gli Elfi luminosi, la stirpe più nobile di tutte, i Vanyar. Ingue fu nominato re supremo degli Elfi e dimorò ai piedi delle potenze a Taniketil, la montagna più alta delle Pelori di Aman. Il termine Vanyar in Quenia significa per l'appunto i chiari, dato che i tratti comuni della stirpe erano questa carnagione bianca, quasi grigia, l'alta statura e i capelli biondissimi. L'Elfa Galadriel, nonostante sia un insieme di tutte e tre le stirpi elfiche, ma soprattutto Noldor imparentata con i Teleri, porta i capelli biondi chiarissimi, tipici dei Vanyar, ereditati probabilmente dalla nonna Indis. Come ho detto, i Vanyar non tornarono mai indietro alla terra di mezzo, se non nel caso del figlio di Ingue, Inguion, che scelse di combattere a fianco degli altri Elfi durante la guerra dell'Ira contro Melkor. Sopravvisse e scelse comunque di tornare a Valinor. Il secondo gruppo che giunse ad Aman è quello sopracitato dei Noldor, i protagonisti, potremmo dire, del Silmarillion, e quindi di conseguenza di gran parte della storia della razza elfica. Venivano poi in Noldor, un nome che designa saggezza, il popolo di Fingue. Sono costoro gli Elfi Profondi, gli amici di Aule, e sono celebrati nei canti, perché hanno combattuto e faticato a lungo e duramente nelle antiche terre settentrionali. In Noldor divennero esperti in pressoché qualsiasi forma d'arte, amanti della parola ma anche abili fabbri e architetti, essendone Aule, il loro Valar protettore e il maestro indiscusso. I Noldor però diventarono anche molto orgogliosi, quasi caparvi. Feanor, il figlio del capostipite della razza Fingue, non fu di certo un elfo dal carattere semplice. I Noldor si complicarono tanto la vita e divennero i nemici giurati di Melkor. A differenza dei Vanyar, i Noldor tendono ad avere una colorazione di capelli più scura, quasi mai tendente al nero, dice Tolkien, è una rarità, molto più tendente al castano ad esempio, ma le stirpi Noldor si sono unite così tante volte alle altre da presentare anche diverse colorazioni come il rosso oppure il bianco platino Galadriel. La terza delle dinastie originali è quella degli Elfi Teleri, l'ultima a raggiungere Valinor in ordine di tempo, ma anche la stirpe più numerosa guidata da Elwe. I Teleri si innamorarono morbosamente del mare. Infatti non tutti giunsero ad Aman, furono coloro che più si dispersero durante il viaggio, dando vita a ulteriori suddivisioni di Elfi che di fatto non videro mai la luce di Valinor, quindi non furono mai Elfi luminosi. I Teleri non differiscono granché dai Noldor fisicamente, nonostante ci sia una maggiore incidenza di capelli chiari e una statura media di poco inferiore. Vi espongo queste leggerissime differenze fisiche per aiutarvi a distinguere le tre categorie principali e originali degli Elfi, ma non è comunque un buon metro di giudizio. Queste erano le tre stirpi degli Eldalie, le quali, trasferitesi finalmente nell'estremo occidente ai giorni degli alberi, sono detti i Calaquendi, cioè Elfi della Luce. Ma vi furono degli altri Eldar che effettivamente si misero in marcia verso ovest, e però si perdettero durante il lungo viaggio, o si sbandarono, o indugiarono sulle sponde della terra di mezzo, ed erano per lo più della stirpe dei Teleri, come si narra in seguito. Codesti Elfi i Calaquendi li chiamano Umanyar, e ciò perché mai giunsero alla terra di Amane al Reame Beato, ma gli Umanyar e gli Avari essi li definiscono ugualmente Moriquendi, cioè Elfi delle tenebre, perché mai ebbero a vedere la luce che era prima del sole e della luna. Gli Elfi procedettero lentamente verso Valinor, sconvolti dalla bellezza di una terra di mezzo che fino a quel momento non avevano imparato ad osservare. Orome continuò a guidarli lungo il tragitto, ma non poteva essere sempre presente. Durante le sue assenze gli Elfi stavano fermi e lo attendevano, ma alcuni curiosi iniziarono ad allontanarsi dal gruppo principale, e finirono con l'affezionarsi talmente tanto a una valle o a una foresta da decidere di stabilircisi dimenticando Valinor. Il grande fiume Anduin costituì motivo di interesse insieme agli Iteglir, le montagne nebbiose, che Melkor innalzò per impedire a Orome di trovare la sua fortezza, Utumno, ma che ora sfruttava per dissuadere gli Elfi dal lungo viaggio. Voleva che restassero nelle terre della penombra, vicino alle sue grinfie. Le montagne nebbiose, svariati millenni fa, erano molto, ma molto più alte rispetto a quelle che vediamo oggi. Se i Teleri giunsero al punto di rendezvous incompleti e in grande ritardo fu per colpa di questo motivo. I futuri Vanyar e i futuri Noldor oltrepassarono Landuin nelle montagne senza troppe esitazioni, mentre nella schiera del fratello minore di Elwe, dei Teleri, Olwe, un elfo di nome Lenwe, è difficile non confondersi con questi nomi, decise di rimanere lì, anzi di seguire il corso dell'Anduin procedendo verso sud. Chi lo seguì andò a fondare con lui la stirpe dei Nandor, la cui cultura si differenziò enormemente da quella di qualsiasi elfo giunto a Valinor. La primitività accennata da Tolkien in riferimento agli Elfi Silvani nasce proprio da questo evento, dato che gli Elfi Silvani avranno origine proprio da una costola dei Nandor. Torniamo quindi agli Elfi che proseguirono il viaggio, ma si trovarono di fronte a un inaspettato plot twist. Orome condusse i Vanyar e i Noldor attraverso il Beleriand fino alle coste ovest del continente e lì li lasciò mentre si recò a Valinor per preparare i Valar all'avvento degli Elfi e raggiunto il momento lui andò a informarli. I Teleri li raggiunsero poco tempo dopo, almeno quelli che scelsero di proseguire il viaggio, attraversando finalmente queste maledette montagne nebbiose. Per una volta le tre stirpi degli Elfi si radunarono tutte insieme alle coste e li attesero. Elwe, l'elfo guida dei Teleri un giorno qualsiasi, attraversò una delle foreste lì vicino del Beleriand alla ricerca dell'elfo guida dei Noldor, Finwe, i due erano grandi amici. Giunto nei meandri del bosco di Nan Elmot, Elwe udì il canto di usignoli e decise di seguirli, che lo condussero ai piedi di Melian, la maia, serva di Vana, sorella di Yavanna, ed Este, la guaritrice, detta anche Signora della Pace. Melian era talmente bella che Elwe si innamorò all'istante e dimenticò anche l'importanza del viaggio che stava facendo compiere ai suoi Elfi. I Teleri non poterono più fermarsi e proseguirono guidati dal fratello minore, Olwe, ma a questo punto alcuni di essi decisero a loro volta di separarsi dalla carovana principale per intraprendere la ricerca del loro vero capo, che trovarono 200 anni dopo. In compagnia sempre di Melian, che aveva abbandonato qualunque dovere avesse ad Aman per amore, decisero di stare al suo fianco e fondare un altro popolo, i Sindar, i cosiddetti Elfi grigi che abitarono prevalentemente nel Beleriand. Il termine Elfo grigio fa riferimento al fatto che essi accettarono l'invito originale dei Valar di raggiungere le terre imperiture, ma ebbero dei motivi per interrompere il viaggio e stabilirsi da qualche altra parte, questo li ha posti su un gradino diverso rispetto agli avari, i riluttanti, che non considerarono mai Valinor. Elwe, che fu chiamato Tingle dai suoi uomini nel momento in cui annunse il comando dei Sindar, non fu mai annoverato però tra i moriquendi perché egli in qualche modo vide la luce degli alberi di Valinor, lo fece attraverso gli occhi della sua amata, la maia Melian, che governò insieme a lui e infuse al suo popolo una piccola parte della saggezza degli Elfi di Aman. La bellezza di Melian fu riflessa nei suoi figli, dall'amore con Tingle nacque la famosissima Luthien, il primo Elfo a ricevere il dono degli uomini in virtù dell'amore che provava per Beren, dando così inizio alla razza dei Mezzelfi, la quale come sappiamo non costituisce propriamente una razza a parte, ma più che altro l'esito di una precisa scelta di appartenenza. Torniamo ai Vanyar e a Inoldor. Giunti alle coste si ritrovarono di fronte al mare con nessuno strumento per poterlo attraversare in attesa. Il Valar Ulmo, il signore di tutte le acque, l'unico Valar a non possedere una consorte femminile e a non abitare ad Aman, ma nel profondo mare accerchiante, fu contrario all'impresa degli Elfi. Quando però li vide ammassarsi al limite estremo del Beleriand, Ulmo decise che la loro volontà valeva più della sua e li aiutò. Prese un'enorme zolla di terra dal Beleriand, la strappò via, ci caricò sopra gli Elfi e la trasportò come una zattera fino al profondo ovest permettendogli di raggiungere le terre imperiture. In seguito Ulmo parcheggerà quest'isola di fortuna nel bel mezzo della baia di Eldamar, sempre ad Aman. Diventerà Toler e Sea, l'isola che altri Elfi, a maggioranza Teleri, abiteranno nei secoli a venire. Ma i Teleri che decisero di non seguire Tingol alla fine, che fine fecero? I Teleri però ancora rimasero nella terra di mezzo, dimorando nel Beleriand orientale, lungi dal mare, e l'invito di Ulmo lo udirono soltanto quando era ormai troppo tardi, e molti tuttora erano alla ricerca di Elwe, loro signore, senza il quale erano restia di partirsi. Ma quando appresero che Inwe e Finwe, le loro genti, se n'erano andati, ecco che molti dei Teleri si avviarono alle rive del Beleriand, e in seguito dimorarono presso le bocche del Sirion, desiderosi di rivedere gli amici che erano partiti. Ed elessero loro re Olwe, fratello di Elwe. A lungo rimasero presso le coste del mare occidentale, ed Osse e Uinen vennero a loro e se li fecero amici. Ed Osse li ammaestrò, standosene seduto su una roccia al limite della terra, ed a Osse essi appresero scienze e musiche marine di ogni genere. E così avvenne che i Teleri, che fin dall'inizio erano stati amanti dell'acqua, oltre che i migliori cantori degli Elfi tutti, concepirono una passione per il mare, e i loro canti erano pieni del suono delle onde sulle rive. Poi, che furono passati molti anni, Ulmo prestò orecchio alle preghiere dei Noldore, di Fingue e loro re, che soffrivano per la lunga separazione dai Teleri, ed esortò Fingue a portarli in Aman, posto che volessero andarci, e la maggior parte di loro questa volta se ne mostrarono effettivamente desiderosi. Ma grande fu il dolore di Osse, quando Ulmo tornò alle coste del Beleriand per portarli a Valinor, che gli stavano a cuore i mari della Terra di Mezzo e le rive delle terre di qua, e gli dispiaceva che le voci dei Teleri più non si udissero nel suo dominio. Ne persuase alcuni a restare, e questi furono i Falatrim, gli Elfi delle Falas, che in epoche successive ebbero dimora nei porti di Britombar e di Eglarest, primi marinai della Terra di Mezzo e primi fabbricanti di navi. Sirdan il Carpentiere fu loro signore. Ulmo traghettò i Teleri volenterosi fino alle coste di Aman, e il grande viaggio degli Elfi si poté definire concluso. Tutto ciò che accadde dall'arrivo di Aman in poi lo scopriremo nella seconda parte di questo speciale. E ne accaddero di cosa, eh? Questo non è ancora niente. Si verificarono delle tragedie. Gli Elfi dei Boschi Si dirigono ai porti oltre le Bianche Torri Ai porti grigi Lasciano la Terra di Mezzo Per non fare più ritorno Non so perché Ora mi sento triste